Un racconto realizzato da Neuronic Channel con il supporto di ChatGPT Esplorazione di Saturno All'alba del XXII secolo, il progresso tecnologico aveva permesso all'umanità di esplorare Marte, stabilire colonie sulla Luna e inviare sonde verso i confini del Sistema Solare. Ma Saturno, il gigante gassoso adornato dai suoi maestosi anelli, rimaneva un mistero. La missione Sussurro di Saturno nacque da una collaborazione internazionale. L'obiettivo era mandare un equipaggio di umani a Saturno per studiarlo da vicino e, soprattutto, esplorare Titano, una delle sue lune più intriganti, che sembrava avere condizioni idonee alla vita. Il capitano Elara Bianchi, una giovane e brillante astronauta italiana, fu selezionata per guidare la missione. Al suo fianco c'erano i migliori scienziati, ingegneri e medici del pianeta. La partenza da una stazione orbitale attorno alla Terra fu un evento planetario. Milioni di persone assistettero in diretta alla propulsione della navicella celestia verso l'ignoto. I primi mesi di viaggio furono tranquilli. L'equipaggio era impegnato in esperimenti scientifici e simulazioni, preparandosi per l'arrivo a Saturno. Ma mentre si avvicinavano al gigante gassoso, una serie di fenomeni spettacolari li accolse. La forza gravitazionale di Saturno, combinata con la magnifica vista degli anelli che brillavano come gioielli nell'oscurità dello spazio, era uno spettacolo mozzafiato. Una volta stabilizzati in un'orbita stabile attorno a Saturno, il team si divise. Mentre una squadra studiava il pianeta e i suoi anelli, un secondo team, guidato da Elara, si diresse verso Titano. Titano era avvolta in una spessa atmosfera arancione. L'atterraggio fu complicato, ma la celestia aveva tecnologie avanzate che permisero di scendere sulla superficie in sicurezza. L'ambiente era ostile, con laghi di metano liquido e un'atmosfera densa. Ma l'aspetto più sorprendente fu la scoperta di strutture organiche simili a coralli emergenti dai laghi. È possibile che qui ci sia vita? Chiese Elara, raccogliendo dei campioni. Gli studi preliminari rivelarono l'esistenza di microorganismi che vivevano nel metano liquido. Non solo c'era vita su Titano, ma era una forma di vita mai vista prima, completamente diversa da tutto ciò che si conosceva sulla Terra. Mentre il team era euforico per la scoperta, un segnale misterioso cominciò a interferire con le comunicazioni. Proveniva direttamente da Saturno. Potrebbe essere una forma di comunicazione, ipotizzò Dmitri, il responsabile delle comunicazioni. Magari gli abitanti di Titano stanno cercando di parlare con noi. La squadra iniziò a lavorare per decifrare il segnale. E, dopo settimane di analisi, compresero che non era un messaggio di Titano, ma una sorta di eco proveniente da un'entità dentro Saturno. L'idea che un gigante gassoso potesse ospitare una forma di vita intelligente sembrava folle, ma l'equipaggio decise di investigare. Una sonda, equipaggiata con le ultime tecnologie, fu inviata nelle profondità di Saturno. Mentre la sonda scendeva, inviava dati incredibili. L'interno di Saturno non era solo gas, ma un intricato sistema di cavità e camere. E, nel cuore del pianeta, c'era un nucleo brillante. Era una forma di vita. Una coscienza collettiva fatta di energia pura. La voce di Saturno. L'entità stabilì un collegamento con l'equipaggio della Celestia, condividendo secoli di memorie e conoscenze. Raccontò di come aveva osservato l'evoluzione del sistema solare, dei pianeti e delle loro lune. Di come aveva ascoltato le missioni umane, sentendo la curiosità e l'ardore di una specie giovane e ambiziosa. L'entità offrì all'umanità un dono, la conoscenza. Condivise con l'equipaggio informazioni sulla creazione del sistema solare, sulla formazione di stelle e galassie, e su altre forme di vita nell'universo. Quando la Celestia fece ritorno sulla Terra, fu accolta come un eroe. La missione aveva non solo scoperto la vita su Titano, ma aveva stabilito un contatto con un'entità antica e saggia. L'esperienza cambiò per sempre la percezione dell'umanità sull'universo. La consapevolezza che non eravamo soli, che c'erano forme di vita e di intelligenza così diverse da noi, fece riflettere sul nostro posto nel grande schema delle cose. Le informazioni condivise dalla voce di Saturno portarono a un'età dell'oro della scienza e della tecnologia. La ricerca spaziale divenne una priorità, con missioni verso i confini del sistema solare e oltre. Ma forse, la lezione più grande fu umiltà. Di fronte all'immensità dell'universo, all'infinita varietà di vita e alla profondità della conoscenza, l'umanità comprese che era solo una piccola, ma preziosa, parte di un tutto più grande. E mentre le stelle brillavano nel cielo notturno, c'era la promessa di infinite avventure, scoperte e lezioni da apprendere nel vasto oceano dell'universo.